Come fare così le lettere accentate sulla tastiera? Ovviamente c'è chi scrive un articolo facendo direttamente la E, poi ci mette l'apostrofo a fianco e dice stato lui direttamente con una E e un apostrofo per far capire che quello è una E accento. Quindi ovviamente se vuoi scrivere un articolo come si deve, devi imparare anche a mettere così le lettere accentate su un documento o quando vai a scrivere qualcosa. Quindi in questo caso questi sono i comandi, A con l'accento, E, I, O e U, quindi proviamo prima con la A con l'accento, fai Alt sulla tastiera più 0192 ed esce così la A con l'accento. A fianco la E con l'accento, tanto non ci vuole niente, basta che li impari a memoria. Ovviamente io li ho imparati a memoria tutti e cinque, non è tanto difficile, però devi fare pratica Alt più 0200 e la E con l'accento. Ovviamente per quelli che hanno il tastierino numerico possono fare questi comandi qua, quindi ovviamente Alt più 0200. Alt più 4, Alt più, esce così la I con l'accento, Alt 0200 10, Alt 0200 10, Alt 0200 10, con la O con l'accento e poi facciamo anche la U che è il 0217, quindi 17 ed eccolo qua. A, E, I, O, U con l'accento. Quelli invece senza il tastierino numerico ho scelto i rapidi da tastiera, ovviamente questo a me non esce, non mi esce proprio, quindi bisogna fare il CTRL più accento grave, lettera, CTRL più apostrofo lettera. Ovviamente se io provo a vedere se posso farlo, CTRL più apostrofo e la lettera, non mi esce. CTRL più maiusca, accento, circonflesso, lettera. Oppure questo è qua, CTRL più virgola. Ovviamente in descrizione ti ho lasciato sia il link per le scelte rapidi da tastiera per carattere internazionale, questa è qua invece per le lettere accentate sulla tastiera. Quindi se questo video è stato utilissimo su come fare le lettere accentate sulla tastiera, iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! Ciao! Ciao!